ecco finalmente la tavola la grande tavola che la prese completamente al completo ecco mancano ovviamente tantissime cose però mi sono fermata 13 pietanze fatti in due ore qualcosa ecco ve le rappresento abbiamo il nostro capocollo locale fatto in casa queste lardo di colonnata la soppressata una bella spigola di mare cucinata a cartoccio abbiamo le frittelle con in questo caso abbiamo i cavolfiori abbiamo invece le frittelle con i broccoli con le cime di broccoli anche col baccalà gustosissime pane casareccio questa è stata cucinata nel coccio e praticamente sono delle patate a pasta gialla con uno stingo di maiale ecco talmente che è cotto bene che le ossa sono praticamente sono rimaste nel fondo della della pignata ecco queste le corne sono le rape delle macchie delle coserie biologiche con salsiccia piccante calabrese vedete qua è una mia trovato trovo i funghi porcini mi sono creato questi cappelletti non mi fate scoraggiare dal colore perché il gusto veramente formidabile ovviamente non tutti i funghi possono essere chiari che la mente ancora delle patatine fritte non potevano mancare una bella nostra sciuncata vedete queste praticamente sono dei finocchi sono stati ovviamente diciamo così contiti con aceto di mele e ancora la nostra giardiniera vedete di delle nostre conserve sott'olio vale a dire abbiamo le melanzane grigliate sott'olio funghi misti della sila ancora melanzane a filetto sott'olio extravegete d'oliva ancora la sardella peperoncina a volontà un po di pistacchi alla fine ovviamente possiamo mettere ancora altre mille cose però penso che sia giusto sono voluto arrivare a 13 pietanze di più non voglio adesso io che faccio apro questa bottiglia di vino nostro casareccio ecco qua vino magliocco verso nel mio grande bicchiere vedete che vino quest'anno è questo è vino veramente questo è veramente vino veramente una cosa incredibile questo vino questa io metto ancora tanto c'è tanto da mangiare ovviamente io associerò solamente un pezzettino di tutti questi prodotti li faccio sempre per tradizione per voto rimarranno ancora una settimana che si possono consumare sono anche i gatti che stanno morendo fuori quindi queste non li mangiano questi possono mangiare anche in 45 giorni anche una settimana riscaldate domani solamente la lasagna faccio perché c'era anche di voto faccio sempre la lasagna al 26 al 25 cioè nel 25 sempre la lasagna quindi i prodotti ci sono adesso io vi saluto con l'albero di natale che punteggia ecco qua io vorrei anche spegnere adesso vedete come si presenta ecco qua voglio spegnere almeno per un minuto le luci ricordando quelli che non ci sono che non sono con noi purtroppo sia per questo fatto del covedere oppure per i nostri familiari che ci hanno lasciato ecco vorrei dedicare questo momento magico a loro perché grazie a loro che oggi noi abbiamo queste queste cose queste ricette le queste tradizioni non avessimo avuto quel passato oggi avremmo tutt'altro modo di mangiare ecco cerchiamo di ricordarle queste cose perché sono fondamentali poi tutti un grandissimo buon natale per domani che sia d'auspicio a voi tutti una grande serata da amiche l'experto Grazie a voi Grazie.